Sì, il nostro giudizio sulla legge di stabilità non è certamente positivo, si è ricalcato un po' il metodo del passato, le risorse erano poche effettivamente, però sono state distribuite queste poche risorse a tutti con un metodo che venne da molto lontano e quindi le mie previsioni erano state un po' criticate, purtroppo sono state confermate direi in pieno. Le modifiche che sono...